E' stato accertato nella nottata il quarto caso di contagio da coronavirus nella BAT ed in particolare nella città di Andrea. Si tratta di una donna, moglie dell'uomo già positivo ricoverato presso il reparto di malattie infettive di Biceglie sin dalla giornata di venerdì. La donna era già in quarantena assieme al resto dei familiari stretti e ieri sera ha accusato ulteriori sintomi sino al necessario intervento del 118 con un'ambulanza dedicata per il trasporto a Biceglie. Sale dunque a quattro il numero di contagi nella sesta provincia pugliese dopo l'imprenditore barlettano di 47 anni residente a Trani, il cosiddetto paziente 1 nel nord barese e poi l'imprenditore andriese di circa 60 anni, anche egli di rientro da Milano ed un sessantenne di Margherita. Tutti sono ricoverati a Biceglie e le loro condizioni sono stazionarie. In Puglia invece si registra una quarta persona deceduta. Si tratta di una paziente di 88 anni positiva da coronavirus e ricoverata dal 4 febbraio scorso al Vito Fazzi di Lecce. La donna originaria di Copertino aveva anche altre patologie ed era cardiopatica ed è deceduta nella scorsa notte. In Puglia comunque sono 57 al momento i casi di infezione da coronavirus. Il bollettino della regione Puglia di ieri sera ha messo in evidenza anche che sono stati effettuati nella giornata di ieri 77 tamponi con 65 negativi e 12 positivi. la provincia più colpita al momento è Foggia con 25 contagi e 3 persone decedute. A seguire la provincia di Lecce con 11 contagi ed una persona deceduta, 9 i contagi al momento a Bari, 5 a Brindisi, 4 nella Batte e 3 nella provincia di Taranto. Sono 7.985 invece i malati per coronavirus in Italia con un incremento di 1.598 persone rispetto al giorno precedente. I morti sono 463, 97 in più di domenica mentre il numero delle persone guarite ha raggiunto quota 724, 102 in più rispetto all'ultimo dato. Sono 733 infine i malati ricoverati in terapia intensiva per coronavirus di questi 440 solo nella regione Lombardia.